Ape Summer Tour, questo è il titolo di un progetto di cui abbiamo parlato, di cui abbiamo già raccontato, soprattutto diciamo nelle fasi di preparazione, poi nel momento in cui c'era anche da promuovere un po' una raccolta di adesioni. Adesioni che peraltro sono arrivate anche numerose e adesso torniamo a parlare di questo progetto. Io do il benvenuto in studio alle mie due ospiti, Anais Scafidi Domianello e Tancianoc Belforte. Buongiorno Anais e Tancia, benvenute, due accompagnatrici del gruppo di 20 ragazzi e ragazze di tutte le chiese valdesi, metodiste, battiste, ispano-americane che ci sono in Italia, vero? Buongiorno intanto, benvenute, ciao. Grazie, grazie Daniela per l'invito. Sì, siamo due delle quattro accompagnatrici, siamo la rappresentanza femminile in questo momento. Con noi ci saranno anche Daniele Parizzi e Moise Stamaio. Sì, accompagneremo questo gruppo, come dicevi bene, di 20 ragazzi e ragazze tra i 17 e i 22 anni in un viaggio della speranza meraviglia scoperta. Dico speranza perché comunque il progetto è impegnativo, staremo insieme a questi ragazzi per due settimane e attraverseremo tutta l'Italia. Esatto, Tancia partite da Catania. Esatto, pian piano recupereremo tutte le persone proprio all'aeroporto di Catania e avremo come prima tappa quello che è Adelfia, il centro giovanile in Sicilia. E poi saliremo pian piano sullo stivale per poi passare in Calabria, fermarci un attimo nella zona del territorio Calabro e quindi conoscere anche le realtà di Rosarno piuttosto che anche quelle di Guardia Piemontese. E poi nell'arco di una giornata ritornare o comunque almeno dico ritornare perché noi in realtà proveniamo dalla Val Pellice, arrivare appunto in Val Pellice per i lavori del Sinodo e quindi scoprire quello che è l'attività e quello che succede durante il periodo del Sinodo. Quindi diciamo che il viaggio parte il 13 di agosto e poi però insomma non è che termina proprio il 21 quando arrivate perché ovviamente i partecipanti sono invitati a rimanere ancora a vivere il Sinodo delle Chiese Valdesi Metodiste che nel frattempo aprirà proprio la domenica insomma successiva al vostro arrivo a Torre Pellice. Esatto proprio i ragazzi e le ragazze saranno parte attiva in questo Sinodo faranno anche parte di quello che è l'apertura e dell'attività promosse sia all'interno dello spazio del Sinodo e trasversali e non solo anche scoprire quello che è il territorio perché ripetiamolo è un gruppo comunque misso eterogeneo da tutto il territorio italiano quindi magari persone che non sono mai state effettivamente nella zona delle valli ma anche le altre zone. Così come dalle valli magari qualcuno non è mai stato ad Adelfia o a Guardia Piemontese e quindi insomma è una bella esperienza ed è soprattutto molto bello questo movimento che c'è dal sud al nord Italia che rende anche un po' la globalità, la complessità delle nostre chiese che non sono solo alle valli, non sono solo valli centriche ma sono appunto distribuite in tante regioni. Certo tutto non si poteva fare, avete gli organizzatori, voi avete dovuto scegliere alcune parti su cui soffermarci se ne sarebbero state tante altre ma si faranno gli anni successivi. Sperando che vada bene questo primo anno, andrà sicuramente bene però certo è la prima edizione di questo Upper Summer Tour e quindi è chiaro che c'è un po' di scoperta anche nella sua evoluzione, c'è un po' di incertezza su come andrà perché chiaramente non c'è un pregresso, non c'è stata una precedente edizione ma siamo certi che appunto sarà un viaggio entusiasmante e soprattutto sarà un viaggio appunto anche di conoscenza reciproca all'interno del gruppo. Quali sono un po' gli obiettivi che vi siete posti voi come gruppo di accompagnatori e accompagnatrici? Dunque intanto vabbè come ormai sapete perché li avete anche ospitati qua non ci siamo solo noi accompagnatori ma questo progetto è frutto del lavoro di tante altre persone, di più gruppi di lavoro che insomma macinano idee e le rendono sempre più concrete già ormai da un anno e mezzo quindi siamo arrivati finalmente al punto in cui mettere in pratica e concretizzare questa avventura. rispetto a cosa sarà dopo lo scopriremo ovviamente non era possibile infilare tutto però ci è sembrato che già in questa prima edizione diciamo un aspetto molto interessante è proprio quello di unire luoghi che hanno storie diverse per cui molto importante per noi sarà questo diciamo uno dei primi obiettivi quello di scoprire che cosa c'è sul territorio nazionale di attività, opere, storia legata alla nostra chiesa ma non solo e dopodiché un altro interessante obiettivo per noi è quello di lavorare appunto sulla scoperta un po' di sé e del rapporto che noi abbiamo con la nostra fede e con il modo di viverla con gli altri perché parte del programma saranno ad esempio dei momenti di meditazione alcuni proposti da noi altri che saranno proposti mano a mano dai ragazzi prendendo sempre più confidenza eccetera eccetera quindi sì un duplice viaggio di scoperta di cosa c'è fuori e di che cosa c'è dentro e di che cosa c'è e cosa possono unire i due mondi quello che posso dare io, quello che mi può dare la mia chiesa e cosa si può ricevere reciprocamente Tancia tu approvi, sottoscrivi quanto ha detto Anais? Approvo assolutamente e oltretutto sottolineo il fatto che appunto il progetto APE, APE sta appunto per ascoltare e per esserci quindi questa dimensione dell'ascolto e dello scambio di luoghi e persone del gruppo stesso che non si conosce quindi è un gruppo di giovani che cerca anche di capire come strutturarsi come gruppo e avrà modo di mettersi alla prova 20 partecipanti direi è un super onorevole traguardo perché non era forse neanche così scontato e a mio modesto parere insomma è davvero già un grande risultato aver raggruppato 20 giovani perché chiaro ognuno poi ha le proprie situazioni, i propri compiti, le proprie attività estive ed è un viaggio impegnativo, non è una questione di 3 o 4 giorni, è un viaggio che dura piuttosto a lungo e quindi insomma mettersi a disposizione per due settimane per confrontarsi e per spostarsi è impegnativo quindi complimenti anche a chi non li conosce, non so chi siano, ma poi magari li scopriremo un po' per volta andremo a conoscerli, però complimenti a chi ha deciso di mettersi in gioco allora quindi valigie pronte, quasi, attività anche ovviamente grande collaborazione immagino con le realtà che andrete a trovare già avete programmato con loro delle iniziative da fare insieme questo sì, ci sono sia persone che effettivamente verranno ospiti nei luoghi quindi magari che arrivano al centro giovanile di Adelfia piuttosto che noi che andiamo a scoprire altri posti come il centro ecumenico di Agape quando saremo alle valli e così via nel senso ci saranno appunto luoghi da scoprire, persone da conoscere per avere appunto sempre un costante scambio e riflessioni nel gruppo e al di fuori del gruppo per capire anche come sta andando Bene, volevo chiedervi ancora una cosa, mi è sfuggita di mente ma ci sarà tempo adesso poi per recuperare anche perché appunto cercheremo di accompagnare il viaggio dandovi un po' di resoconti di tanto in tanto di come sta andando voi ovviamente utilizzerete i social per comunicare, per raccontare cosa sta accadendo Assolutamente, vi invitiamo quindi a seguirci in questo viaggio in questo percorso in tutto lo stivale italiano e in quelle che sono effettivamente le opere delle nostre chiese e niente, conoscerà anche il gruppo Bene E oltre a seguirci, come dire, con lo spirito e con l'ascolto di Radio Beckwith potete seguirci su Instagram alla pagina ufficiale che si chiama Ape underscore Summer underscore Tour e che ha già iniziato a raccontare un po' quali erano gli obiettivi quali saranno le tappe e che poi presto si riempirà anche di video, foto e racconti dell'esperienza Come vi spostate? Un po' per treno, un po' per pullman Ok, a seconda dei luoghi, dei territori Esatto, a seconda dei territori No, perché comunque siete un gruppo consistente è interessante anche questa modalità di trasporto Bene, allora in bocca al lupo ovviamente a Tancia e Anais che sono con noi adesso due rappresentanti del gruppo che accompagnerà appunto questi ragazzi se volete saperne di più come diceva Anais c'è la pagina Instagram Ape Summer Tour tutto con l'underscore oppure sul sito chiesavaldese.org ci sono maggiori dettagli anche proprio per quanto riguarda un inquadramento più generale di questo progetto che ricordo è il primo anno che si fa, che si sperimenta quindi insomma davvero una bella esperienza per quei giovani tra i 17 e i 22 anni che avranno l'opportunità, la bellissima opportunità di conoscere tante realtà delle chiese valdesi e metodiste un po' in tutta Italia e poi insomma torneranno per il sinodo qua a Torre Pellice buon lavoro, buon viaggio e buone esperienze ciao Anais, ciao Tancia, grazie per essere stata con noi grazie mille